Non nego che quando ci sono delle cose, poi io sono una persona molto precisa, molto decisa e quando penso di aver ragione poi dopo me la porto a casa. Ti capisco bene, anche io seppur non sono né sono sposato con l'uomo più bello del pianeta, anche io lavoro con mio marito e so che non è proprio facilissimo sempre.